e non mi dici niente no sta girando però secondo me è iniziata dai che mi si bruciano le acciughe gira gira vedi gira 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 eccola qui ciao amichi che c'è 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 tira un po è questo vestito ma neanche tanto se andiamo a vedere che è arrivato che è arrivato che è arrivato maria moises maria baci mille stefania siete puntualissimi vado a girare le acciughe vi lascio con iddu perché iddu ma qui mi passa sulla tenda ma io non capisco cioè fa mette mette sul fuoco le cose e poi se ne dimentica se ne dimentica ciao amici come state vedo moises maria cos'è vedo stefania mili come stas todo bien amigos allora la venta già ha impensato è non svegliamo se nel finale del settembre sicuro speriamo sempre pensando e sperando che che vedi bisogna andare giù guarda guarda l'olio gabriella giuseppe giusi non manca mai giuseppe è un saluto dalla svizzera vogliamo salutare anche lui o no ciao giusi ciao giuseppe già tiene la entrada para seviglia alla sevigliana ciao giusi e poi mili o l'amico e spagnolo italiano con ipti due ximo stas friggendo le acciughe tocco tutto unto anche lì da lei asunta ciao assunto rossio o alessandro o la marina te salutano allora abbiamo fatto a tempo e stavamo cuore a perché stavamo in Italia del Sud, molto lontano, eravamo vicino Brindisi, però a Pallagianni, eravamo a Pallagianni, però insomma tutto bene, siamo riusciti ad arrivare a tempo, siamo un po' stanchi perché abbiamo dormito veramente pochino, ciao Roberto Franz, ciao amico, qui c'è anche la pazza che non si capisce bene, sai quando ti si poggia sulla spalla il pappagallo? no, il corpo amore, ecco, eccola, Maria José, hola, bocherones, che sono Maria José e bocherones, detto così, ma ma gli ho fatto vedere l'amore, ma scusa, detto in questo modo, vuoi prendere l'amore? se volete un bocherones, lo mangiamo noi, ma amore, il bocherones e l'acciuga, scusa, mangiare un patatino, pachi, ah, tambien tiene l'entrata a fare la salida, brava, Giovanna Piccini che noi salutiamo ugualmente, poi vi dico una cosa di questo vestito, pescaditos, sì, sono pescaditos, ma non l'ho dito, è pescato, 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 bene, bene, e poi Fausto Buccella, ciao Fausto, benvenuto anche a te in questa nostra seratina di aperitivo, facciamo un aperitivo così, un po' di prosciuttino, un po' di salami, un po' di formaggio e boscarones, come si chiamano? Acciughe, bueno, che dice, l'importante sia il pappagallo sulla spalla e non la voltoio, vedi? Ma io ogni tanto mi fa la voltoio qui, anche così, ah, boscherones, bocherones, sono pescato pequeño, sono piccoli pesci, brava, esatto, infatti si mangiano tutti i pesci, sì, che sono la ancioa, 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 se disse ancioa, non in Spagna, secondo me fai un'inizio tra ancioa, no, ancioa, mi pare che si disse, Margherita Ruggero, ciao bella, eccola qui anche lei, è l'ultima padellina, Stefania hai conquistato, Marina hai conquistato Stefania perché dice che sei simpatico, ma Stefi amore, bedda sei bedda, ma amore ma non apri, ciao Grace, amore scapicchia e apra, scapicchi e apra, non come dice風, come dice.. Non che pensi, capiti! A passare di aver dormito poco possiamo aver guardato, grazie, buonasera nel diretto, esatto non mi sono detto. E già non ci siamo visti sabato scorso, ciao Davide! E siamo stati. Ndò l'ancioa è un'altra cosa.. che è l'ancioa?! Pachy! Amore chissà cosa dici ma stai zitto, ti dovrai andare a provare! Guarda c'è Deborah che sta chiedendo cosa si mangia stasera. Acciughe, farinate e fritte, che poi si possono anche definire bocarones. Ma quello l'ha detto in spagnolo, ma lui non so che parole dica perché lui le sbaglia le parole. Edì, in Piemonte si chiamano anciue, anche da noi. Salame, patatine, prosciuttino crudo, salamino, bel paese, formaggio, plastica, un aperitivo, un po' di bevita. Franca, anche noi siamo contenti di sapere che siete lì e che ci seguite. La Franca Mastromarco, Franca Mastromarco, la Franca Mastromarco, Franca dal Canada. A che ore sono lì? Sì, sono le due, dieci più o meno. Da pomeriggio. Luca, ce la canterà? Sarà la nostalgia? Chi lo fa? Sì, stasera si può fare un po' di nostalgia sicuramente. Esatto! Acciughita, acciughita! Ah, sta rispondendo a Maria Cossero, sì. Acciughita! Oh, eccole qui le acciughite. Le anciue, le anciue. Allora, prima di sedermi vi voglio dire una cosa. Questo vestitino... Sì. In passato anni. Questo vestitino lo vedete? Che è un miracolo che mi stia ancora. L'altra volta vi ho fatto vedere il vestito di mia mamma, che aveva la bellezza di 40 anni. Questo è un po' più giovane. Ne ha 25. C'è anche i quadrettini, non so se si vedono. Si vede? Ciao Arnaldo! Si vedono i quadrettini bianchi e rosa. Ciao Vateri e Terry! E fammi finire! Questo vestitino... Fiorangela! Me l'ha fatta la mia nonna che avevo qui 19 anni! 25 anni fa! E mi sta ancora! Allora, questa è la sua versione. La mia versione, sapete qual è? Qual è? Che... Non ti piace? No! Per carità, è anche molto bello! È carino! Ma il problema è che con questa situazione del Covid stiamo oramai prendendo tutti i vestiti che erano messi in cantina perché non abbiamo più comprato niente! Siamo disperati! Riciclato anche i vestiti della nonna, della bisnonna, della zia, di tutti! Grazie Steph! Questa maglietta l'ho incontrata in camera di là che camminava da sola! Ma ricontrata? L'ho fatto mia nonna 25 anni fa! Pensa a voi! Che ti piaccia o non ti piace? Pensa al Covid cosa ha fatto eh! Bellissimo anche questo vestito! Quello della mamma era super! Quello era bello, vero? Eh sì! Quello era più vestito, vestito! Eh sì! Questa qua avevo 19 anni! Salute a tutti! Cin cin! Salute! Salute! Salute amichi! Debora dice bellissima anche questo vestito! Quello della mamma era bello! Quello della mamma era bello! Eh quello della mamma era bello! Quello della mamma era bello! Devo cucirlo! Peccato che poi ci siamo, dopo che se l'è tolto abbiamo guardato, ci aveva tutte le morsicate delle tarme! Ma non è vero! Era tutto tarmato! Perché noi invece di andare alle terme ci portavo di vestiti! Amore no è brutta! Lascia stare! è certo che domande fai? è il vino è il vino basta amore basta mi fai passare per un ubriaco ma figurati non ci crede nessuno grazie Fiolangela avere il ciclo non mi sta né solito ma io ero convinta che non mi stesse invece almeno due saluti a tutti amici ben ritrovati siamo stati una settimana senza vederci ma due settimane no sono due settimane che non ci vediamo perché ci siamo visti due sabati fa sì ma al fine di una settimana ci siamo visti fine della seconda ci siamo ritrovati quelle sono due settimane mese salute salute e scusate quando ci siamo visti dai ditecelo ditecelo allora le acciughe a detta di tutti che sanno ma non mangiate con le mani lo sapete no? esattamente quindi io farò esattamente come ti dico bruceranno un po' eh? vediamo adesso vediamo mi ti dico prima ti dico poi ti dico ecco non c'è questo lo sale ci volevi mica il sale? sì grazie io ci metto un po' di sale e un po' di limone ho anche mal di schiera no vai riprendo io no vado io ai 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 fare così vado io avanti popolo lui fa sempre così adesso ve lo racconto e ride anche ride anche allora lui fa sempre così oh magari ti guarda amore vabbè volevo un po' d'olio ma fa lo stesso vabbè amore te lo prendo no no ma lascia vado io amore te lo prendo no no ma mentre ti dice no no io mi sto alzando e lui sta ancora seduto e ti dice no no vado io no no vado io e intanto non va ma secondo te io sarei così lasciamo stare lasciamo stare salutiamo i nostri amici Rossio, Pacchi, Giovanni certo Anna e Antonio che sono i genitori di Deborah e noi gli mandiamo un bacione un saluto anche a loro ci fa piacere conoscere di incontrarvi sapere che anche voi ci state seguendo stasera e bene buon proveccio muchas gracias vosotros che cosa mangiate che state scommendo ma fate aperitivo cin cin Angela ciao Angela come stai è una vita che non ci vediamo chi è l'angela? l'angela dalle parti di non mi ricordo se è Torino o Cugno dimmi che non ho sbagliato ma non ho sbagliato strano perchè? no perchè me la ricordo io l'angela vabbè capelli corti corti almeno quando l'abbiamo conosciuta noi si Pippo smettila eh lascia stare Pippo eh lascia stare Pippo no non c'è nemmeno la mia coperta mi sto scaldando la gamba tanto per dire Gabriella ghettino anch'io faccio così con Antonio vedi? ma lei non si alza Lello sono già due o tre giorni che ti vogliamo chiamare si dobbiamo sentirci e tu sai perchè domani ti chiamiamo Lello sentite le acciughe saluta a tutti saluta a tutti le acciughe non si mandano non si apre si leva la lisca si mangiano così certo i cannibali mangiano tutto e la coda ma no invece la lisca io non la mangio scusa come on i embutido vedi si mangia il camon il prosciutto cos'è embutido? prosciutto probabilmente qualcosa di che sta avvicino di malba cosa sarà embutido? non è embutido è embutido ora ce lo dice lo sentite? ah 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 morero tortiglia di patata e insalata Maria Rossio vuoi un po' di acciughe ci mandi un po' di tortiglia dai pensate che bello se potessi fare questo scambio ehi gambin ciao gambin e ho fatto un po' di acciughe parlo io in genovese che non sono capace no io parlo in genovese ma poco si è vero poco fa anche le traduzioni delle canzoni si è vero mi te posso dare alipè joie 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 è una parola francese sei rivolta però la dobbiamo ma czy e così una parola si dice joie sì sì ma noi ma certo sono quelle parole che sono quei joie quello che non ti vuoi vede dire vieni dire ma cos'è amati ma scuota quando mangi non ci siamo più e non ancora bevuto elisa ci sei me l'aveva detto e simone acquimini saluta elisa che lì con simone ciao elisa un bacione come stai speriamo di vederci presso forse veniamo dalle vostre parti prendo un attimino un grisinetto dai ma veramente non lo vorrei lo lascio qua per vediamo noi vogliamo salutare tutti gli amici di torre di torre mozza di palagianni perché ieri sera veramente è stata una bellissima serata la prima serata dopo la 40 esatto salutiamo anche Enzo e sua moglie Angela che sono i gestori di questo bellissimo ristorante dove siamo stati e c'era veramente tanta tanta gente che hanno cantato e mi hanno fatto cantare per un'ora e mezza e più però ci siamo divertiti ho detto giusto Gambin grazie ti vedi spenti che tema milenio non c'è c'è io sono sandro non sono le domande che è maligno potrebbe te che ti che che tacchetti che tacchetti che sei alla cucina ciao carmine allora visto il tomate pimiento berengena seboia e todo mogliecio vedi e il pisto, allora il pisto è quella roba lì non è il pisto amore certo l'avevo capito ma va bene che sono un scemo no no ma dico bene ciao Carmine anche a te doce serata buonissimo risponde aveva una spinetta scusate lo si Tonio De Pascalis amore chi è Tonio De Pascalis? che si non so ah è un nuovo, una new entry ma sono contento sia una new entry ah vi voglio dire una cosa meravigliosa, l'ultima sera che siamo stati insieme che abbiamo mangiucchiato, abbiamo fatto un po' di canzoni, come sempre però ma lo sapete quanti eravate alla fine 3.300 visualizzazioni è vero fantastico cioè 3.300 entrate, uscite siete incontrati voi insomma con cui chiacchieriamo rimanete sempre fino alla fine poi ci sono quelli che intranescono 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 Maria Candela mangia i calamari che non sono anche quelli non sono male Maria Candela si mangia i calamari non è no 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 ditemi no 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 Sandro, Sandro non si tocca è che l'ha toccato Stefania no perché si si mi sono persa qualcosa se ne accorgono che mi tratti male da un po', se ne accorgono anche loro se ne accorgono che mi sto trattando male se ne accorgono se ne accorgono se ne accorgono anche loro vabbè, salute eh cincino a tutti salute salute tira di su questo vino questo calice che facciamo tutti un brindisi internazionale qui dal Canada dalla Spagna dalla Sud America da Chiavari da Genova dall'Italia dall'Avagna dal Biemonte buon sabato a tutti buon sabato a noce buona domenica soprattutto domani eh buona benissima domenica a tutti auguri pippo zitto allora sai cos'è? che sto vestito? sembra che sono incinta come sei stupida è proprio è proprio guarda non ve lo fare dire amore è forte questo secco proprio non mi toccare non mi devi toccare ma siete come secco oh ragazzi voi non ci crederete mai no l'altra sera ha fatto cadere stasera paella l'ana levaggio l'hai presa dall'olgo l'hai fatta tu no perché non lo so se l'ana levaggio di Chiavari o è di Genova forse non è che mi ricordo proprio vedi Tali Mugno saluti da Costa Rica ehi ciao Tali ciao che bello ritrovarvi tutti i nostri amici ecco forza Genova potete anche non dirlo eh Stefano però va bene io non perdo la speranza forza Genova ma siamo messi molto male poi domani sera forse o rinasciamo oppure purtroppo vabbè però Genova Genova è sempre Genova il Geno è sempre Genova quindi Pippo cosa vogliamo fare non lo so guarda hai parlato dei piedi mi sta leccando i piedi ciao Virginia ciao Virginia allora vi stavo raccontando sì sono tante le spine dove nelle acciughe andavo dicendo come mi rispondeva mia mamma come le bambine le acciughe ma per quanto ti dico di non mangiare no io le mangio mi piace la acciughe non mi piace mangiata così eh sennò non c'è gusto no stai lì aprire leva e cosa e mette staglie e parità ma c'è gente figurati dai amore c'è gente che pensa che per non cucinare le mangiano anche crue proprio se le mangiano diciamo cosa le cuciniamo no no il discorso non è quello l'acciuga calda va mangiata così se ti ammette il calapri e devi la spina e togli la buccia e parappella e togli la coda e dai mangiare st'acciuga che sennò st'acciuga è più buona più bagnatella ma come mai che prima della diretta non eri così sono io ho capito allora alla fine sono sempre io quello che ti stavo raccontando che lui non riesce mai a farmi finire per mi interrompe sempre io quando vedo qualche amico saluta maria candela salutiamo ci ho fatto anche la canzone l'abbiamo già salutata ciao diego ciao diego vedi senti diego cosa dice forza genoa ha preso la franca vabbè no e cosa deve dire e vabbè grazie genuano però voglio bene allo stesso siamo cresciuti insieme cosa stavi dicendo oh allora ciao adriana bacione adriana si vogliamo ciao adriana l'altra sera stavamo mangiando bevendo siccome non volevamo aprire un'altra bottiglia di vino perché avevamo quasi finito di mangiare gli ho detto vabbè beviamoci solo questa c'erano giusto due bicchieri di vino in questa bottiglia Stefano lui versa a un certo punto scontra il bicchiere il vino del suo questo dico se vi racconto questa poi dite che non l'ho tratto bene ovunque vino nel suo bicchiere non ce n'era più e non ne volevo aprire un'altra bottiglia perché poi se la apri la bevi capito allora a parte che ho gioito in quel momento ho detto grande amore bravo porta bene bravo madonna a quel punto lì quando ha gioito così ho preso anche il suo vino e lo rovesciato è che è quello ho detto al minimo Diego un bacione anche a te che voglia di vederlo gli ho detto alla mamma e ci organizziamo quindi cade tutto il vino io felice perché ho detto porta bene sì chi se ne frega il vino sulla mia giacca sulla stedia assunta ovunque ma non mi fregava niente perché porta bene quindi va benissimo quindi prende il vino tutto così pulisci tutto e poi ditemi se non lo amo ditemi se non lo amo ho detto amore siamo andati a fare un giro in macchina ci hanno fatto il palloncino perché avevamo vino da tutte le parti ma vai gli ho detto amore vedi che non mi fa mai finire gli ho detto senti sai cosa ti dico che siccome porta bene prenditi do un po' del mio vino e gli ho ceduto un po' del mio mi sono tolta il vino dal mio bicchiere meraviglioso per darlo a lui eh l'avreste mai detto possiamo rispondere ad esempio steppano mi chiede se ho mai conosciuto di andrea l'hai mai conosciuto di andrea di andrea devo dire la verità di andrea padre o figlio? penso il grande vi parla di fabrizio no il grande no perché suo figlio non sia no il grande nel senso però no 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 proprio proprio nel senso che ah proprio nel senso del grande no vabbè suo padre fabrizio ha scritto delle melodie straordinarie meravigliose canzoni fantastiche e invece il figlio che è altrettanto bravo grandissimo musicista eccetera però non ha ancora scritto le bellissime canzoni che ha scritto fabrizio questo mi sembra un dato di fatto che nessuno può contestare poi famiglia sicuramente meravigliosa grandi musicisti fabrizio però non si tocca dicevo purtroppo l'ho visto solo un paio di volte ma non c'è stato mai una grande nel senso non abbiamo mai avuto modo di conoscerci di più di frequentarmi quindi niente ho risposto hai risposto avevi un po' poi Giovanna vuole sapere e diviolo tu mi sta malo Pippo dice allora vi racconta un po' di Pippo mi ricordo ma certo me la lascio un'acciuga no perché te lo già ho detto è più facile spogliarti che toglierti da mangiare ma infatti lo faccio apposta più spogliare meno di Pippo infatti non volevo dire questo volevo dire un'altra cosa vabbè Pippo guardate che è stato operato poi è stato male l'abbiamo salvato per un pelo insomma tutte queste cose però quell'intervento gli ha portato un po' di strascichi poi lui adesso ha dei dolori alle zampette di dietro quindi non riesce tanto a alzarsi bene insomma è un po' vecchiottino c'è il pannolino ma c'è il pannolino non perché fa la pipì in casa poverino perché lui la fa fuori la pipì e anche la cacchina a parte l'altra notte che si è sognato di hai finito cosa stai facendo e allora puoi non ti lamentare aiutatelo 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 mi urla nell'orecchio mi urla nell'orecchio chi ti urla ancora amore ma vedi che urla ma continua a dargli da mangiare me lo dicono loro di dare qualcosa a pipì no non può mangiare allora dirglielo loro non può mangiare allora stavo dicendo dove ero arrivata adesso che pipì non è che faccia a parte l'altra notte che mi ha svegliato alle 4 e mezza del mattino che si sognava di correre e lo sapevo e l'ho già raccontato a parte perché ho detto che lui non fa mai la pittiera a casa a parte l'altra notte tu non mi segui e poi mi riprendi però non diamo i particolari anche in questo momento dove c'è anche un po' di cibo qualcuno mi aiuti quindi gli metto il pannolone perché perde qualche goccina di pipì non è che faccia proprio la pipì capito però in linea di massimo sta abbastanza bene rompe le palle come quando stava benissimo quindi sta abbastanza bene direi mangio una giochina perché se no no ma cosa dire no due te due io guarda quanti giochi ti mangiare brava infatti non ne mangio più guarda io brava ti ho detto se tu continui a parlare non mangi se te sei furbo te mi togli il mangiare sotto la bocca non togli la bocca fammi vedere se quando vieni al basco di san salvatore vorrei fare un selfie con Stefano ogni tanto anche oggi eravamo la basco porca paletta siamo arrivati dalla Puglia ci siamo fermati io ho portato lui alla basco sono andata a prendere pippo mi lavo un attimo le mani perché ho mangiato un po' ma va il bocca deron bocca dron siamo andati a prendere pippo quelli che vedete dietro sono i miei libri c'è un tavolo che fa spavento ma non fateci caso siamo andati a prendere pippo cioè sono andata a prendere pippo lui intanto ha fatto la spesa sono tornata indietro l'ho preso ed eravamo alla basco saranno state le 4 4 e mezzo 4 e mezzo giù di lì ma ci siamo spesso alla basco Stefano dai fatti vedere che ci facciamo un selfie anzi ti fai un selfie con Sandro che magari come te ne può fregare di meno come Marina che non te decamos come Marina che non te decamos non ti lasciamo come ah come come mangia mangia rossi no tranquilla io mangio mentre parlo sono maleducata vedi amo le acciughe racconta perché ci sono le acciughe che cosa faccio che cosa sono stato un'ora a prepararle già sono tutte belle pronte è andato da Raffaele alla basco perché alla basco arrivano le acciughe fresche tutte le mattine è andato ha preso 2 kg di acciughe le ha pulite tutte le ha messe sotto aceto ora le lasciamo lì 2 ore dopo le toglie le mette sott'olio con un po' di peperoncino un po' di aglio un po' di origano olio sì sott'olio con un po' di peperoncino un po' di aglio un po' di origano e basta il sale e le acciughe ma sei serio o lo metti quando le metti nell'aceto il sale o se no le metti dopo un po' se è calmo io le faccio comunque lui le fa capito e poi le mangiamo così Giovanna ci chiede come era Morandi a giocare eh regina ciao la regina c'era in Puglia è vero allora Morandi è sempre stato un generoso e anche giocare a calcio generoso solo che era molto disordinato cioè giocava praticamente e stando io in difesa ero l'ultimo uomo facevo libero chiamavo sulla squadra per accocciare eccetera dove era Morandi vicino alla bandierina riposarsi quindi stava lì e quindi la squadra per forza di cose era sempre molto buona ma questo al di là di questo Gianni sempre stato un grande grande amico grande persona grande cuore grande cuore ha fatto tantissimo come tutti noi con la nazionale cantanti per aiutare gli altri e questo va di là di qualsiasi situazione personale sportiva che come ad esempio Ramazzotti che tutti mi dicevano Ramazzotti gioca bene gioca bene gioca bene io da allenatore non l'avrei mai voluto in una squadra seria perché ha una dote meravigliosa che è l'esibizionismo quindi lui essendo nella vita molto estroverso come si dice una persona quando si non è l'esibizionismo ma è estroverso estroverso e quindi lo manifestava anche giocando quindi quando era anche voleva tirare in porta anche dalla bandierina quindi è tutto detto insomma il gioco del calcio tutti lo sanno ciao Giuseppe grazie anche a te e chiunque allena sa che è un gioco di squadra quindi ho giochi per la squadra senti ma a parte Eros Morandi e compagnia bella la vuoi quest'ultima acciugata la lascio volentieri una canzone no no aspetta le acciughe fanno il pallone nella canzone di Faber vediamo se tu sai si è scivolato si la portano vediamo se ti posso fare scivolare io adesso questa domanda vediamo se sai che cos'è quel pallone che fanno le acciughe no non lo so amore dimmelo tu non lo sai no eppure questo l'ho detto si lo so ma non so spiegarlo allora le acciughe viaggiano tutte in quantità no migliaia proprio tantissime e viaggiano tutte altra che distanzialmente ciao Massimo Emiliano cosa succede che quando qualche tonno qualche palamito poi ci dici come stai passa sotto di loro queste qua si spaventano e vanno tutte a galla e allora cominciano a saltare perché hanno paura sono tutte impaurite dal pesce grande che arriva e cominciano a muoversi tutte quante insieme e formano un pallone a questo punto cosa fanno i pescatori che sono in giro giocano prendono le acciughe che fanno il pallone e fanno un sei contro sei proprio su una barchetta mentre vanno sono tutti in mare che fanno queste c'è già un pallone more tutti lo sanno vanno a tiragire i pescatori vanno in mare sperando di trovare il pallone di acciughe per fare una parpatella però vabbè ma oh cosa ti fai i pescatori che vedono questo pallone di acciughe vanno e molti come ho fatto io una volta con il salaio che sarebbe il retino quello che ripiegi te lo butti lì dentro e tiri su e vanno tiri su hai capito? quello era il pallone ho capito Antonio Credendino ciao Antonio da Napoli Marigliano e io ciao anche Oronzo c'era ieri sera grande anche Oronzo c'era ieri sera grande quando è che suoniamo un po'? adesso mica per l'altro perché sono già i 35 adesso ora facciamo due o tre canzoni poi casomai qui rimane un po' di salame un po' di prosciuttino ma poi lo mangiamo dopo facciamo dopo ah se no un peccato guarda passano i guai finisci di questo acciughino ma i pezzi di patatina fritta non passano mai una donna madonna madonna dittai dame 5 io quanto sono simpatica ma una roba ma io guarda veramente a volte dico ma ma tu ma tu la fortuna ma tu ma perché io a certe volte dico ma perché il signore vi ha mandato una così simpatica guarda ma solo ma amore il nostro amico Massimiliano ciao Massimiliano eccolo qua poi ci racconti come stai spero bene ti mando un bacio si è uscito ieri dall'ospedale quindi facciamo gli auguri tutti quanti noi del gruppo tutti noi che siamo qui in questo momento mandiamo gli auguri a Massimiliano con un bacio perché è stato in ospedale non è stato troppo bene ma è uscito quindi vuol dire che adesso sta bene esatto l'ultima ciò poi Virginia dice un pezzettino mangiala tu mangiala te l'ho già detto mi sono già lavato le mani tutto tuttutututu sarà nostalgia va bene adesso la facciamo Stefania dice che è ufficiale che ci ama anche noi ti amiamo e dai prendiamo un po' di chitarra cosa dici proviamo va bene mi fa paura no non so fai delle pause delle attese che no no oh ragazzi può darsi che dalla settimana prossima ci sia una non vita pipo amore c'è una malità si cosa stai suonando può darsi che dalla settimana prossima ci sia una non vita ma potrebbe anche essere che ci spostiamo per la diretta il vento dalla braia passa sulla nostra casa la burrasca già sconfilla il mare ma sto naufragando anch'io non so dimenticare e non amare più le regole del gioco le hai rispettate poco e di notte io non mi addormento e sto come un bambino qui a innamorarmi ancora quando c'eri tu tu sarai tu sarai la nostalgia sarà che l'estate vola via tu sarai ma sono qua un uomo che viene per metà tu sarai la nostalgia sarà che ti penso ancora via tu sarai quel che sarà ma tu che ne sai di che sarà ma dimmi perché piangi no perché dobbiamo cos'è questa novità che ci spostiamo devo dirlo no no va bene se devo dirlo lo dico no 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 ma io non lo direi no ma diciamo è quella che dovremmo fare stasera ho capito va bene è una bella cosa è una bella cosa e ve lo faremo sapere e sarà anche una cosa è un po' più a favore di chi è un po' più vicino seguendo una musica dolce e stranea la stanza del sole trovai l'uina da andare il mando leggerà non vedete nemmai non vedete nemmai guardo nel viso da l'uomo 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 di chi vince il vero non saprei questa me la so ricorda le frasi d'amore sembravano le stesse ma il corpo ha un'altra emozione è come in amare una notte d'estate o soli in una stazione è qui nella stanza del sole io nascevo morendo tra distrezze di viola e rimorsi del cuore e si ho sbagliato cammino dando un calcio al destino all'amore del tempo agli amori del vento mi fai morire qualcosa in vento così mi fa morire mi fa morire ma volevo sapere che io qui improvviso poi perché magari non le canto da tempo queste canzoni succede così purtroppo che strana vita sei partito da lontano adesso che c'è lei risvegli anche il mio cuore e che strana vita sei ci prendi e poi ci dai sei come un tempo orale sai da quando sto con te il tempo vola via e non lo so fermare ma tu rimani come sei anch'io ho paura sai ma voglio andare avanti io ti posso dare mani per volare occhi per guardare quello che non puoi vedere le mie mani grandi che sanno aggarezzare ti farò impazzire un'ora prima di dolpire io scrollo ma lui Maria ha inchiesto gli occhi verdi di tua madre mi senta non sono sicura perché sei uscita perché mi hanno fatto innamorare gli occhi verdi di tua madre il sorriso di un tramonto dove ci si può specchiare i tuoi passi all'improvviso e un tuffo al cuore inmenso nasuramo ser felices recorrer un tos del tiempo ser amor y hablar amor respirar amor eterno prometimos tantas cosas che un rino hemos cumplido no 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 te vaia bravi guarda come sono rapidi primavera no te vaia no te vaia no 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 E come un sceme nella terra noi, con quella forza che per mare non puoi, sotto la neve siamo cresciuti un po' per sopra vivere. E poi, a primavera poi, due fili d'erba siamo noi, nel grande prato che un nuovo sole scalderà. A primavera poi, dappena il cielo girerà, e il vento soffierà sul nostro amore. Stasera così chiara? Stasera così chiara? Ma questa qui è una canzone che non so nemmeno io da dove è uscita fuori, non so se faceva forse... Questa sera così chiara, che più chiara non si può. L'ho lavata con chi sa, per pulirla che più non puoi. Dai, amore! E questa è una sera così chiara... Ma ti chiedo, non la vai! Ma non me la ricordo, ma io cosa devo fare? No, io cosa devo fare? La ripasserò, la ripasserò per la prossima volta, ma non me la ricordo. È una canzone che ho scritto nel lontano 1922. È la Madonna! È la Madonna, scusa, non lo so. Io la 1922. Invece... Signora mia, mi scusi se ho suonato, ma non so che cosa sia. La voglia di parlarle che mi ha preso, è stato come un fuoco che si è acceso. Signora mia, non riuscirei a dormire, se lei mi mandasse via. Signora mia, non so che non è l'ora, ma io devo dirle che... Signora mia, sapessi quante volte ti ho sognata, e che i miei sogni li vedevo addormentata. Di notte io guardavo nella tua finestra chiusa. Immaginavo tutto, non domandarmi cosa... ... ... non mi siamo accorgiato 10 anni fa non l'avresti fatto mai giurami che con un altro non ci vai e passa il tempo e passa anche l'amore ma le cose che sai fare che sai fare solo tu 10 anni fa non l'avresti fatto mai oggi però sono qui all'impatene con l'orgoglio e con la presunzione di sentirmi il tuo padrone accettati come sei e già che c'eravamo ne ho fatto uno di più oh vedi giovanna mi guarda mia ballare vai a ma partiamo a ballare sballa e la vuole e dai balla allora passa basta il giorno e passa il tempo basta anche l'amore quel che avevi detto ma non serve fare patricate per nascondersi non si può pensare è un'abitudine gli amici e le persone dove abiti la dolce nostalgia un bacio rubato in fretta e via non si può versare il pianto su una fotografia forse è una bugia ma non è colpa mia è un'abitudine portami a ballare fammi divertire senza far domande versami da bene questa notte amore notte senza fine voglio ricordarla quando stanno male portami a ballare fammi divertire dimmi che mi ami canta una canzone e poi camminiamo mano nella mano voglio far l'amore stiamo ancora insieme che finale eh mamma mia guarda Pippo scusa se dovrei passare e com'è ragazzi non ho più l'età arre lui che mi sveglia al mattino lo fa sottovoce e mi dice buongiorno al caffè lui entra in fondo ai miei occhi e mi dice ti amo io non voglio che te lui quello che aspettavo è che in punta di piedi è arrivato per stare con me lui mi ha rubato per sé corpo, anima e me e mi perdo di lui è lui che sento come zucchero e sale che sa soffortare il mio stabile umore che ci fa litigare poi fare l'amore poi fare l'amore scoppiare nel cuore la voglia di credere che proprio lui è vivo come zucchero e sale non è così che lo sai il mio stabile umore che ci fa litigare che ci fa litigare poi fare l'amore lasciando aspettare e lui che gira anche senza di noi e mi farò far forza mi boicotta lei che mi aspetta per ore è arrivato e prepara le cose fresco le più belle che mi piacciono a me capito? lui si fa gli accordi giusti e se la canta bene pigiona ai minuti mentre il tempo va via ma guarda un po' e lei che senta come zucchero e sale che sa soffortare il mio simpido errore che ci fa litigare puoi fare l'amore puoi fare l'amore scompiare nel cuore la voglia di credere che è proprio lei che vivo come zucchero e sale che sa perdonare il mio stupido errore che ci fa litigare puoi fare l'amore lasciando aspettare il mondo che gira anche senza di noi nel sorriso più dolce si nasconde l'amore non posso sbagliare se quello ti aspetto da sempre sei te guarda che accordi perfetti stai zitto muoto devi stare muoto non fare così non fare così se mi fai uscire l'assicula che c'è in me non fare così cosa ci hanno chiesto sei per me chi è sei per me sei per me sei per me sei per me è una canzone che avevo fatto tanti anni fa oh ma io non la conosco ma si sei per me il primo bacio sei per me il fuoco acceso non l'onore sei sei per me un'emozione sei per me sei per me sei per me sei per me cioè tu gli hai detto il titolo e lui ha continuato sei per me io voglio io voglio io voglio io voglio parar il tempo con tus occhi viendomi con le voglio di andare così abratandoti e parar aquel momento cada vez che tu ti io voglio sì io voglio voglio cambiare il mondo però il mondo è come è come con le voglio esca dentro di tua ma io voglio tenermi sola e che erano sempre mia io voglio che che ria quanta parecchia che se ne amano io questa notte insieme a te noi questa notte per il sabato sera in compagnia insieme insieme a voi me la fai prendere togli prendi togli prendi togli allora vai diiii che dice che dice volar volar mentre almerzo mi accompagna un abbraccio dice che mentre sta mangiucchiando qualche cosa le facciamo compagnia marylin ciao marylin buon appetito vamo cosa vogliamo volar volar e poi terminiamo eh ma non lo so ma non lo so ma non lo so ma non lo so però per carità io lo sai che avrei voglia di stare con questi nostri amici sai quanto tempo proprio perché mi diverte mi diverte molto stare insieme a loro però troppo vabbè tanto facciamo questa poi dopo facciamo la nostra sigla di chiusura e lo mando gaviota blanca è in libertà il mare viene e il mare va il cielo è lì toccarlo non vuoi e allora vuoi volar volar tan alto e a via la luce E in spagnolo come sto? Non scendere in picchiata e ritrovarmi ancora innamorata, sotto questo grande cielo, cielo blu, quanti sogni son volati fin lassù, quanti treni son passati in ferrovia sotto questo grande cielo? Bravo maestro! Ma capisci che è tutto improvvisato, vedi che bello che improvvisare così, quello che viene, viene... Ma dove mi hai messo? Rossio, un beso, un beso, un beso, un beso... Danni un beso... Danni un beso... Tic 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 tic... Oh ma... Cioè... Voglio dire... Era qua un attimo qua eh? Dov'è? Dov'è il finale? Eccolo qua... Voi le passacciamo da mesi? Allora... Amici... Amici belli... Dammi un beso... E ma non me la ricordo! Come viene? Ma non la so! Come no? So solo dammi un beso! Ma no, in italiano! In italiano? Ma chi l'ha messo? Siamo stati... Ma questo amore non si tocca! Ma questo amore non si tocca! Questo amore non si tocca! Ma questo amore non si tocca! Ma questo amore non si tocca! Ma bravo! E' stato detto! Ah ecco! Allora l'hai visto che questa che era improvvisata così è piaciuta! Eh... Ho capito! Se non mi fai gli scherzi che mi sbagli gli accordi apposta! Ma non lo faccio apposta! Tu mi fai gli accordi sbagliati apposta! Mi boicotto! Ti boicotto! Sei un bel biscotto! Dai, allora siamo arrivati in chiusura! Amici, vi aspettiamo sabato prossimo! Forse, forse... Forse con una novità! E qualcuno potrebbe anche essere con noi! Chi lo sa! Per adesso... E poi quando fai l'amore con me... Oggi bruci preparando il caffè! Perché mi somigli un poco! Tu compagna mia mi va che ci sei! Perché mi somigli un poco! Tu compagna mia mi va che ci sei! Ma quando no lessiamo ci sei! Oh 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 oh... La posso fare. Oh 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 oh. Mi sono svegliato. Amici, vi stavo dicendo che ci vediamo sabato prossimo. Speriamo con qualcuno di voi di vedersi di persona chi lo sa. Un bacbano grande. finiamo con il nostro inno positivo portafortuna di chiusura mi sono svegliato mi sono vestito e sono uscito solo, solo per la strada la San Cristas ho camminato a lungo senza metà finché ho sentito cantare in un bar ho sentito cantare in un bar canzoni e fumo e l'allegria io ti ringrazio conosciuta compagnia non so nemmeno che è stato a darmi un fiore ma so che sento più caldo il mio cuor so che sento più caldo il mio cuor felicità felicità ti ho persa ieri ed oggi ti ritrovo già tristezza tristezza va una canzone il tuo posto prenderà l'abbiamo abbiamo bevuto siccome non beviamo mai e poi ho mangiato il mio cuor è possibile che ti abbia già più caldo più caldo il mio cuor felicità felicità dai mi fa sbagliare dai mi fa sbagliare una canzone il tuo posto prenderà di nuovo felicità ti ho perso ieri felicità ed oggi ti ritrovo già tristezza va così vi saluto anche Pippo una canzone il tuo posto prenderà 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 una canzone ci vediamo sabato bacini il tuo posto prenderà una canzone la canzone